Villa del Conte, un boato e poi il tetto che crolla, è accaduto in una palazzina di via Sega. Il soffitto dell'appartamento al primo piano, al momento disabitato, è improvvisamente crollato. Tanta paura per l'anziana che vive al piano terra dell'immobile e pochi istanti prima è riuscita a fuggire in strada, avvisata dal boato che ha preceduto il crollo. Per lei nessuna ferita, ma è stata costretta, sul consiglio dei vigili del fuoco intervenuti sul posto, a lasciare l'appartamento e trovare ospitalità dal figlio fino a quando la situazione sarà più chiara. Si tratta di una palazzina degli anni 50 che in queste ore sarà sottoposta a verifiche per accertare eventuali pericoli di altri crolli.